Nel mondo dell'aviazione leggera italiana nulla sarà più come prima. Questa è la sensazione emersa durante gli incontri avvenuti a volo di fine estate, un evento aeronautico organizzato a Villa Franca di Forlì dall'Associazione Piloti di Classe, che ha visto protagonisti centinaia di velivoli e relativi equipaggi, ma soprattutto la voce ufficiale di alcune realtà significative per i settori del VDS e dell'aviazione generale. Durante gli incontri abbiamo assistito ad un dialogo acceso, crudo e provocatorio, ma decisamente necessario, che a nostro parere, se unito a un po' di buona volontà da parte di tutti, getterà i presupposti per cominciare a risolvere le problematiche che da decenni assillano il settore. Anche se negli ultimi tempi non si sono visti particolari mutamenti per quanto riguarda i ruoli chiave nelle gestioni degli enti e delle associazioni, nel frattempo è però completamente cambiato lo scenario. Una vera e propria rivoluzione epocale, che in questa stravagante configurazione normativa tutta italiana, ha visto il mondo del VDS, chiamato molte volte ultra leggero in modo snobbistico e dispregiativo, sorpassare inesorabilmente quello dell'aviazione generale, con un aumento importante dei piloti, un'offerta di velivoli a dir poco sbalorditiva per quanto riguarda tecnologia, efficienza e prestazioni, ma che soprattutto ha registrato una crescita esponenziale di nuove associazioni, nuovi media e nuove piattaforme social, che riescono con grande facilità ad aggregare e a comunicare con la base degli appassionati. Realtà estremamente attive, che hanno cambiato radicalmente lo scenario, che si muovono in totale autonomia e che non si possono assolutamente trascurare se non si vuol perdere il contatto con la realtà. Emerge sempre di più la necessità di adeguarsi al resto del mondo, di superare personalismi e vecchie consuetudini, di colmare le anomalie delle normative in corso nel nostro paese e di uniformarle al pari di tutti gli altri stati, ai quali molto spesso noi stessi vendiamo i velivoli, senza però poterci permettere di utilizzarli a nostra volta e alle medesime condizioni di pesi e prestazioni. Occorre anche e soprattutto una maggiore interlocuzione a livello europeo per le normative che dovranno essere adattate alle necessità italiane e per questo è necessario fra gli enti di riferimento un dialogo serio, continuo e condotto da persone di grande ed indubbia competenza. Al tavolo dei relatori, moderato dall'organizzatore Silvano Teodorani, presidente di Piloti di Classe, erano presenti il presidente della commissione WDS dell'Aeroclub d'Italia, professor Renato Ricci, il presidente di Aopa Italia, Rinaldo Gaspari e il presidente dell'Aeroclub di Pavullo, Roberto Gianaroli, delegato della commissione AEC-ENAC. Nelle interviste ascoltiamo alcuni dei loro commenti. Penso che sia stata un'ottima possibilità perché è difficile riuscire a parlare direttamente con i piloti. L'Aeroclub d'Italia come ente non ha la struttura per essere così diffuso, quindi sul territorio e questa è un'ottima possibilità. Poi i commenti, le discussioni fanno parte del gioco, io lo accetto molto volentieri anche se sono certi momenti duri ma comunque anche giustificati perché molte volte il pilota non riesce a comprendere le difficoltà che è un ente quando manca della dirigenza politica che vuol dire bloccare tutto il resto. Mentre oggi io spero di aver fatto comprendere qualcosa di più a loro e loro hanno sicuramente trasferito a me delle informazioni che a mio parere sono utilissime per il futuro. Il rapporto con gli altri enti e con le altre associazioni che è sempre stato un po' ferraginoso, cosa si potrebbe fare per levigare un pochino gli angoli? Allora la prima cosa è quella di non fare l'errore del passato, cioè di non parlarsi. L'errore del passato è che gli enti non si sono parlati, ognuno ha roccato nella propria posizione, sulle proprie competenze non capendo che oggi se hai dei risultati li hai di squadra, da soli non si vanno da nessuna parte. Noi abbiamo aperto quest'idea di cominciare a collaborare e devo dire che ho trovato degli altri enti che la pensano come me, stiamo facendo un lavoro molto molto bello con Enac, lo faremo sicuramente anche con NSV a brevissimo, con Enav lo stiamo già facendo e con il Ministero. E' chiaro che siamo in un momento in cui trovare una quadra, una soluzione a una normativa come la 1139 del 2018 che ha sconvolto un po' tutta la pianificazione aerea italiana non è semplice, però l'importante è avere buona volontà e cercare di lavorare tutti per un obiettivo comune che è quello di far volare le persone in sicurezza. Una nota polemica di A.O.P.A. è stata registrata senza dubbio questa mattina, cosa possiamo dire in merito? Io posso comprendere la nota polemica, il problema è che in questo specifico caso c'era un'urgenza c'era un'urgenza di una cosa che attendeva dal 2018, che qualcuno avrebbe dovuto fare nel 2018 e io ho avuto un tempo tecnico probabilmente di 20 giorni per risolvere un problema che altrimenti avrebbe rischiato di mettere l'aeroclub in fortissima difficoltà non c'era un tempo per poter ascoltare tutti in queste situazioni però credo che A.O.P.A. quando vedrà le proposte fatte riconoscerà in quelle proposte tutto il materiale che lui stesso aveva citato del 2016 e di quello che successivamente aveva consigliato perché comunque con A.O.P.A. abbiamo lavorato anche su un tavolo ENAC quindi ci conosciamo già quindi io credo che sia giustamente un'attenzione che mi ha voluto suscitare legittima però ho rincuorato opportunamente che le cose sono andate in verso giusto Il primo dei tanti obiettivi del 2021 di AeroClub d'Italia? Il primo dei tanti obiettivi è arrivare ai 600 kg chiudere questa storia, far sì che i 600 kg diventino di AeroClub d'Italia però non di qualcun altro, di AeroClub d'Italia e lì bisogna essere intelligenti su questo perché altrimenti anche lì se non facciamo squadra rischiamo di perdere la partita È una giornata sicuramente interessante, quando si parla di volo è giusto esserci è giusto portare delle proposte e l'auspicio è che torni se mai c'è stato il momento del dialogo perché si devono risaldare tanti legami dal basso verso l'alto per poter camminare tutti quanti insieme nella direzione migliore per il volo e per il comparto a cui apparteniamo Secondo te cos'è che non ha funzionato e quali secondo te sono stati i motivi? Quando si forniscono dei servizi è giusto parlare con chi è fruitore quindi noi piloti abbiamo delle esigenze esigenze che vengono portate alla luce dalla nostra quotidianità dal nostro lavoro, dal nostro impegno, dal costitivare la nostra passione siamo noi che vogliamo, siamo noi che attraversiamo i cieli e sappiamo quali sono le reali esigenze noi inteso come piloti ovviamente io adesso sto parlando da pilota quindi credo che sia assolutamente giusto e fondamentale parlare, sviscerare, discutere, confrontarsi come diceva Giorgio Gaber libertà e partecipazione Secondo te quale sarebbe il primo fra tutti gli obiettivi dell'Aeroclub d'Italia a partire dal prossimo anno? Il primo obiettivo che io mi darei è quello di varare una legge europea perché il volo da riporto ha le sue radici nella legge 106 che è sicuramente stata rivoluzionaria ma che ha la sua bella età il DPR 133 che è stato diciamo l'ultimo atto ufficiale che ci riguardava è del 2011 quindi siamo nel 2021 la tecnologia ha fatto passi da gigante la sicurezza volo anche bisogna crescere e bisogna dotarsi degli strumenti per crescere tutti insieme tutti insieme intendo siamo cittadini europei quindi è giusto che l'Italia si allinei anche a quelle che sono le realtà europee con cui noi vogliamo assolutamente entrare in contatto Il grande nodo da sciogliere? Il primo nodo da sciogliere è quello dell'opt-out che non è ancora stato esercitato nello Stato italiano quindi ci sono già circa 11 paesi in Europa che hanno scelto di elevare i pesi dei Macrolite a NextOne per poter rispondere anche a delle esigenze pratiche più che ovvie direi dalla sicurezza in su compreso anche quella di rendere possibile a tutti i costruttori una spinta propulsiva al sistema paese ecco abbiamo fior di aziende che producono un sacco di aeroplani di eccellenza perché all'estero ci invidiano tutti i nostri bellissimi aeroplani li comprano e come ho detto stamattina il paradosso è che questi aeroplani noi li costruiamo ma non li possiamo volare in Italia perché non appartengono a nessuna categoria perché questa categoria non c'è direi anche nel rispetto delle aziende e nel rispetto anche del nostro comparto e nel rispetto anche del nostro paese noi non possiamo permetterci di sprecare neanche 50 centesimi perché i fattori moltiplicativi sono assolutamente importanti tanti soldi messi insieme fanno una quantità di soldi quindi noi non possiamo questo riguarda anche la ricaduta nel comparto dell'avioturismo per esempio non possiamo assolutamente trascurare delle fette di mercato che sono importanti e che portano benessere noi in questo momento abbiamo bisogno di benessere abbiamo bisogno di lavorare di produrre di rimettere in moto le nostre attività la nostra economia e il comparto dell'aviazione leggera fa parte esattamente come altri comparti e quindi ha le sue cose da dire ed è giusto che venga ascoltato nessuno meglio di Rodolfo Biancorosso che da sempre ha questa grande antenna alzata e questa grande sensibilità nei confronti di tutto il mondo dell'aviazione italiana e nessuno più di lui può leggere con precisione che cos'è successo stamattina allora diciamo che io ho una buona sensibilità su questo mondo che conosco ormai da 35 anni quindi le ho viste proprio tutte ho visto come si modificavano le cose quali erano i problemi e quali sono state le persone che abbiamo conosciuto che hanno cavalcato l'onda del volo in questa fase di cambiamento epocale oggi è stato un incontro che attendevo da tempo mi sarei aspettato di vedere Giuseppe Leoni però ha delegato Giannaroli e Ricci ed è stato un incontro molto interessante perché almeno per la prima volta si è saputo cosa sta succedendo in Aeroclub Italia già la situazione è anomala perché il mondo del WDS ha degli enormi problemi c'è il problema dei 600 kg l'opt-out di EASA che siamo stati ormai gli unici a non avere ancora accettato e ci sono problemi obiettivi con il mondo dello sport e con la promozione praticamente da tre anni è tutto fermo parliamoci chiaramente bene almeno oggi abbiamo saputo che in una situazione anomala di commissieramento è stata istituita una commissione tecnica che zitta zitta si è mossa bene male non lo sappiamo ma almeno ci ha detto che si è mossa e devo dire che le spiegazioni di Ricci che è il presidente della commissione sono state un buon punto di partenza ora è essenziale continuare a far sapere quello che succede per ricucire il rapporto con la base perché l'esordio la colpa dei piloti se l'aerorabilità va male è un qualcosa secondo me di orribile proprio lo definisco con il termine con il termine giusto superiamo questo punto e cerchiamo di ricucire il rapporto con la base i presupposti ci sono aspettiamo di sapere che cosa succede speriamo in tempi brevi quale ritieni sia la cosa più urgente da fare in generale? immediatamente prima dai 600 kg prima delle scuole prima degli aiuti promozione se l'aeroclub d'Italia non comincia a fare accordi con i provveditorati con il ministero dell'istruzione per rimettere la giornata del volo delle scuole per regalare gli aeromodelli ai bambini non ne usciremo mai saremo sempre di meno sempre tutti con i capelli bianchi ci conosceremo tutti fra di noi e il mondo del volo resterà chiuso abbiamo bisogno di promozione il resto viene dopo 2020 un anno complicatissimo difficilissimo pieno di imprevisti però qualche cosa sta succedendo ho visto nei piloti il desiderio e la voglia di ritornare a volare a volare in modo anche turistico è stato interessante anche l'incontro finalmente con Aeroclave d'Italia dopo tre anni di mobilismo si è visto già un modo di apertura speriamo che le cose portino a ottimi risultati in cui il pilota può avere un po' più voce in capitolo forse manca una ristrutturazione di quello che è il mondo del VDS che è una macchina volante come l'aereo in generale di smetterlo di chiamarlo l'ultra leggero il nostro mondo di criticarlo dare sempre le colpe su certi aspetti l'ultra leggero oggi non ha più niente da invidiare alla visione generale la prova è stata data ultimamente da EAS in cui vengono riconosciute ai PPL le ore volate sul VDS avanzato quindi quando da certi enti arrivano questi input a scendere non vedo perché non ci possono neanche essere a salire le ore volate nel VDS e poi un domani possono permettere al pilota di conseguire il PPL o la TPL o quello che sarà all'evento forlivese si è poi parlato di avioturismo ripercorrendo attraverso il racconto e le immagini le tappe del tour aeronautico italiano organizzato da piloti di classe che cosa è rimasto del Giro d'Italia e che cosa stai preparando per l'anno prossimo è rimasto tanto stanchessa questo sì perché a volte è quattro tappe in un giorno e coordinare 25 bilivoli con quasi 40 persone innanzitutto mi fa piacere la gratificazione che è merito a tutti che hanno partecipato al tour entusiasti anche loro mi è rimasto bellissimo il rapporto con i presidenti dei club che ancora oggi ci chiamano ho notato girando l'Italia il desiderio delle avi superfici di entrare e far parte di questo progetto investendo dei soldi forse ora di smetterla di fare la guerra il club contro l'altro club perché abbiamo visto che quest'anno noi abbiamo messo insieme 18 tappe ma 18 club che fra di loro si parlavano e fra una trappa e l'altra un precedente di un club si parlava con l'altro quindi si può iniziare a fare un po' di unione e c'è questa volontà smettiamo di essere un po' meno presentuosi noi e forse con l'unione riusciamo a ottenere le cose sperabili ma non solo per i piloti perché per tutto il mondo economico il tessuto sociale culturale insomma il prossimo tour che già si sta ideando sarà bellissimo ma più avvioturistico che è poi il nostro obiettivo quindi sarà una tappa giornaliera anche più lunga forse ma poi si ferma in quella località si va a visitare la località forse quest'anno a giochi fatti era più uno spot promozionale e occorreva questo adesso veramente si va a dimostrare di quello che si può fare anche se già quest'anno dove si atterrava comunque la realtà le giunte comunali provinciali televisioni sono rimaste colpite da quello che si faceva ma è questo era pronto è solo andare a raccogliere sempre per il 2021 è stato presentato ufficialmente un altro tour particolarmente significativo denominato Adriatic Tour 2021 studiato ed illustrato da Roberto Bisa il nostro straordinario trasvolatore nazionale che detiene ben due Guinness dei primati per avere raggiunto con un ultraleggero mete come l'Australia e la Terra del Fuoco anche questo tour è organizzato da piloti di classe in collaborazione con Aviomarche nella persona di Cesare Rossi e con l'appoggio di Gino Sabatini presidente della Camera di Commercio delle Marche nonché presidente delle Camere di Commercio dell'Adriatico e dell'Oionio con la media partnership europea e in doppia lingua italiana e inglese della nostra Fly Europe TV l'idea è di dare una connotazione aeronautica paradossalmente mai prese in esame in precedenza per quanto riguarda lo sviluppo di percorsi e mezzi di interconnessione fra gli otto paesi partecipanti al progetto Macro Regione Adriatico Ionica di cui l'Italia più precisamente la Regione Marche detiene la titolarità proprio per quanto riguarda lo sviluppo e la promozione di iniziative di interconnessione e mobilità in questo caso sfruttando gli aeroporti e le aviosuperfici disponibili dall'una e dall'altra parte del mare Adriatico va ricordato che le due coste sono raggiungibili con i velivoli in tempi che variano da 40 minuti all'ora di volo